La riduzione dell'imposta pubblicitaria per i commercianti di Montale non basta ai diretti interessati. La Giunta Comunale ha preso il provvedimento per l'oggettiva riduzione del giro d'affari nei quartieri dopo l'apertura della tangenzialina che viaggia parallela alla via Emilia, riducendo il passaggio veicolare e quindi la clientela dei negozi. Una novità, quella decisa ieri, che non soddisfa comunque i commercianti. Assolutamente no, anzi, si da conferma che il Comune non è stato in grado di cambiare qualcosa per poter salvaguardare i 70 posti di lavoro, anzi ne sono stati persi e è arrivato in ritardo, ma un ritardo clamoroso perché dal 2010 ad adesso si è persa una buona fetta di mercato, penso. Il fatto che il Comune adesso lo riconosca non vi consola? No, assolutamente. Infatti il nostro impegno d'ora in avanti, non guardiamo al passato, ma guardando in avanti è di continuare per ottenere i nostri obiettivi, cioè la riappertura della strada, perché il commercio si basa sulla visibilità e se non ci passano davanti macchine noi non possiamo andare avanti a fare il nostro lavoro e mantenere il lavoro per le nostre famiglie e per le famiglie dei nostri dipendenti. A Montale sono effettivamente calati di parecchio gli affari? Penso proprio di sì, decisamente. Vediamo anche qua, adesso ho chiuso un altro negozio, quindi penso che si vede. Potevano pensare almeno di fare un senso unico, visto che c'è stato un danno, il danno poteva essere parziale e non così grave per noi e anche per l'utenza. Potevano pensare almeno di fare un'altra strada, perché è un'altra strada, perché è un'altra strada. Grazie. Grazie.